Ho trovato un lupetto, ma io voglio le mucche, ho bisogno delle mucche, mi servono le mucche, mi servono per avere il cuoio, perché col cuoio faccio le forbici e devo fare le forbici, perché devo tagliare la lana alle mie pecore, perché con i sommini guarda tutto così complicato, va bene, bene, sì ma ci stiamo allontanando di miliardi di chilometri, ho trovato una sola, due mucche, due mucche, due mucche, ok, nel mentre se avete visto, spero di no, nel mentre sto dicendo, se avete visto, mi è apparso un messaggio, perché sono entrati in un gruppo di discorde, ma non mancano messaggi ogni 5 secondi, adesso ammazzeremo le mucche con i semi, anzi, con i semi, mucche, non puoi non morire, io ho bisogno del tuo cuoio, e se non mi dai del tuo cuoio, mi ammazzo, mucca, ma che cosa, vai, dove, vai, dove, mucca, mi servi, muori male, posa sto coso, posa, cosa ho fatto, aiuto, rimetti l'acqua, ah, muori, ha dato il cuoio, ha dato il cuoio, sì ma ho fatto un casino, aiuto, allora togli quest'acqua, metti l'acqua nel fiume, per favore, ok, prendiamo anche la canna da zucca e adesso uccidiamo l'altra mucca, col ferro si uccidono le mucche, col ferro, ah, non puoi scappare, ah, ma me è fregato, vieni qui subito, muori, oh, due di cuoio, benissimo, adesso torniamo a casa, ok, ho preso un po' di lana, nel prossimo episodio, con i tre ossi che ho, proverò a domestica, eh, lasciate perdere, proverò a domesticare quel lupacchiotto, e spero che non avrò tanti impegni, perché il prossimo episodio deve uscire presto, io prendo un po' di carne da zucchero che sono cresciute, e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao, oddio